buongiorno a tutti allora della serie ci sarebbe un ciccinico del gigione come al solito non la notte porta o meglio il risveglio porta consiglio perché mi sono svegliato oggi l'ho come al solito i miei orari anche perché ho finito alle 6 di fare l'ultimo video di news di call news che poi naturalmente avete visto alle 7 ma l'avevo fatto alle 6 praticamente 5 e mezza del mattino poi sono andato a dormire mi sono svegliato per vedere se il mio amico mi ha risposto perché ieri ieri prima di andare anzi stamattina prima di andare a letto gli ho dato il messaggio per degli stasera che si fa perché c'è chiuso leppi bar cosa facciamo di abbaggiare la pizza lì e poi andiamo a colico o andiamo direttamente a colico mi fanno gli ha risposto non mi sono alzato guardato gli aveva risposto poi sono andato su facebook visto c'erano i ricordi e quindi c'erano un po di spunti da questi ricordi di 4 5 6 anni fa che mi hanno dato un po di input come si suol dire per fare appunto questo video allora innanzitutto vi volevo segnalare così tanto per un sito un po particolare su youtube di una ragazza una ragazza penso sia toscana toscana con la r moscia che parla di diciamo porcellinate ecco porcellinate di sesso diciamolo papele papele in cui lei racconta un po di di sue avventure e da fa degli esempi spiega tante cose sul sesso non si chiama pink ed il canale pink come rosa l'inglese è di come è dire che può essere un diminutivo di andrea o che ne so e quindi ascoltandola eccetera mi è venuta in mente un po di battutine degli anni 80 che non già ricala fece cioè se conoscevo una ragazza così no che per la conosciuta tra l'altro noi upis conosce la contessa no che era interpretata da corin clary che gli fa un po di battute fa fossero tutte come lei non esisterebbero più i gay immaginatevi fare una battuta del genere oggi immaginatevi oggi una battuta del genere come la prenderebbero oddio cosa ha detto come si permette voi pensate anche la battuta del buon commissario auricchio quando arriva la parolaccia no al ristorante la parolaccia eccetera che c'è quello lì con la chitarra benvenuti a sti puntini puntini e tu che sei un po free free dimmi un po che c'hai da dino perché gli dice benvenuti a sti puntini puntini così belli e cappuccioni e tu che sei un po free free dimmi un po che c'hai da dì e il buon commissario auricchio gli dice non sono puntini 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 non sono free free sono commissario e ti faccio un mazzo così un mazzo tanto o scusi commissario no figuratevi anche qui quella battuta lì come anche quell'altra scena di liberati armando in vacanze in america di gerica la no liberare armando lo schiantatope eccetera e poi era diventato uno che gli piacciono gli uomini ecco diciamo così perché ormai non si può non puoi più dire quella parola lì quella parola lì e tabù cioè se uno è così non c'è niente di male cioè se uno è un puro che va con tantissime donne non le paga o va con tantissime donne si dice che è un puntini puntini e non c'è niente di male non è che si offende uno c'era un mio amico no diceva c'è lo scopatore era un suo amico lo chiamava lo scopatore e gli faccio ma è perché è bello e c'è no le paga e allora non è è uno che paga c'era un altro film famosissimo tanti tanti anni fa poi ne ho fatto anche un remake con quello che anche lui fece la parte del del libanese in romanzo criminale perché ce ne sono due di romance criminali con attori diversi e era sotto il vestito niente quello però degli anni 80 non quello moderno sotto il vestito niente l'ultima sfilata quello era sotto il vestito niente che c'era questo personaggio che ero gli fa vada questo che stava cercando di scoprire sua sorella che fine aveva fatto è andato a parlare con un fotografo gli fa guarda dovresti parlare con questo qui che ha un gioielli ieri perché vende gioielli e scopa modelle beato lui però ragazzi cioè poi sto pensando anche al buon faletti quando faceva vito catozzo che ci aveva il figlio che aveva tendenze si capiva che era più interessato a quelli del suo sesso che non ha alle ragazze e lui cosa diceva se sapessi che mio figlio diventa puntini puntini vivo ce lo faccio mangiare porchi in mondo che ci ho sotto figuratevi adesso una battuta del genere e stiamo diventando cioè hanno ragione quando dicono che questo politica di corretta rotto i testi poi dopo vai a vedere se si offendono determinate categorie di politici non è più un'offesa se invece offendi un'altra determinata categoria di politici che secondo me non è un'offesa ma una constatazione ti denunciano subito come ti permetti 2500 euro perché mi hai detto quella cosa lì 5000 euro perché mi hai detto quella cosa lì c'era sgarbi che ha speso non so quanti soldi per risarcire determinate persone perché lui come al solito esagera e infatti ha coniato la cosa della capra perché il suo avvocato ha detto se dai della capra non ti possono denunciare però se tu gli dici che sono quello che diceva il sergente no voi non siete esseri informi di natura biologica adesso mi ricordo mai la frase esatta che diceva per definire quello che erano per lui quei soldati di appena cioè le reclute e lui dando della m rd alla gente e perteva botte di multa penso ai film di fantozzi lei è una merdaccia figuratevi adesso dire lei è una merdaccia cioè sgarbi per aver detto la stessa cosa togliendo ciccia ma fermandosi solo a prende a 35 mila euro di risarcimento danni dalla persona a cui gliel'aveva detta quindi capite che lei è un coglionazzo cioè noi degli anni 80 quando ci telefonavamo però che perché ai tempi i ragazzi miei non è come adesso whatsapp facevi il gruppo whatsapp degli amici raga stasera andiamo alle p bar per dire no mettevi la la frase noi ce l'abbiamo già e serata ignoranti ormai non lo stiamo usando più perché i miei quasi coetanei che sono diversamente giovani come verrà loro usano il loro termine essendo sposati fidanzati eccetera hanno una mentalità diversa una volta c'era serata ignoranti ce l'abbiamo ancora e quindi qualcuno che magari voleva uscire c'è qualcuno in giro stasera sì dai vediamoci alla sala al crazy wave allora era al crazy wave adesso è diventata la sala non succede più ai miei tempi purtroppo avevamo solo il telefono non c'era telefonino non c'era whatsapp non c'era il computer non c'era niente e so che molti della nuova generazione dicono gigi ma come cavolo facevate come si faceva a chiamava b dicendogli guarda che stasera la mia intenzione andare lì senti gli altri allora b chiamava c c chiamava d d chiamava e e chiamava f f chiamava g voi calcolate che la nostra compagnia era composta da una trentina di persone e tempi più o meno quindi ci si iniziavano a organizzare al sabato alle due del pomeriggio a iniziare a fare le telefonate e poi cosa succedeva che l'unica cosa che si decideva era ci troviamo alle 9 9 e mezza tutti assieme al parcheggio di via dogniocchi al parcheggio di via dogniocchi quindi figuratevi 30 persone qualcuno arrivava in macchina con tre quattro persone qualcuno arrivava da solo quindi noi praticamente riempivamo sta viettina cercando di parcheggiare alla bella e meglio perché sennò occupava non passava più nessuno si scendeva dalla macchina ci si radunava allora ragazzi proposte per la serata e passava mezz'ora per decidere dove andare poi c'erano sempre quei 4 o 5 che dicevano ragazzi a me va bene tutto e poi erano sempre i primi che una volta che si arrivava al locale ma che due coglioni ma non mi piace al che siccome io sono faccia di merda me l'hanno sempre detto cioè non mi faccio problemi mi cazzavo a ieda dicevo scusa tu hai detto a me va bene tutto si è deciso di venire qui sei benissimo che questo locale non ti piace perché non è la prima volta che ci vediamo e non è la prima volta che rompi il cazzo che non ti piace perché non lo dici e dici sempre a me va bene tutto fai una proposta anche te sei un locale e poi io non conosco locali però dillo che è bene qua non ti piace poi ci sono dei ragazzi fortunatamente anche le ragazze che sotto gli dici guarda francesca enrico giovanni giovanna eccetera faccio dei nomi a caso stasera si va tutti assieme a mangiare la merda le dice va bene perché su quelle persone che non gliene frega un cazzo del posto in cui va gli interessa stare con gli amici perché loro quando stanno con gli amici stanno bene in qualsiasi posto siano qualsiasi ci sia il cibo eccetera 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 infatti c'era una coppia che si sono messi insieme ormai secoli fa lui sembrava scott bion quello di happy days no chaki e lei biondina carina c'è non era olivia aiuto giovanni però era caruccia anche lei si sono messi assieme e noi facevamo sempre le battute su questo ragazzo qua dicendo ma lui che sta con francesca che sta con enrica che sta con giovanna con chiunque sta qualsiasi ragazza avesse lui sta bene perché è fatto così trova una brava ragazza ci sta assieme basta è felice contento perché è uno che se gli dice andiamo a mangiare la merda ti dice va bene andiamo a mangiare la merda e meno male ci sono anche persone così poi naturalmente ci sono quelli che bisogna andare assolutamente nel posto e quindi ragazzi miei noi ai quei tempi era così adesso c'è whatsapp e un attimo fa il gruppo anche noi abbiamo al gruppo poker no gruppo poker uno scrive ragazzi poker questa settimana qual è il giorno che vi va bene allora uno dice per lunedì uno dice martedì uno dice mercoledì uno dice giovedì diventa un casino però tendenzialmente si trova sempre il giorno giusto no ci si organizza perché tanto alla sera sono tutti liberi a meno che non hanno qualche cielo che cosa quindi uno dice guardate a me va bene il giovedì va bene a tutti e gli altri scrivono sì ok va bene io magari arrivo un attimino dopo perché è un attimo noi i tempi non ce li avevamo queste cose qua cioè noi telefonavamo e la cosa divertente era le telefonata perché quando io chiamavo il mio amico gli dicevo buongiorno sono la merdaccia allora coglionazzo che si fa stasera perché era sempre così no o cara la nostra merdaccia stasera guardi anzi no mi faceva a buongiorno principe perché giusta merda guardi stasera ci saranno tizia caia se poi così lei è contento perché so benissimo che lei senza donne non è giustamente se io ero come cercherini ci sono donne perché solo mi rompi i coglioni perché a me piace tampinarle andare lì a da ad armare come dicono i miei amici poi prendo il vdp che chi se ne frega però non conta la vita conta il viaggio no diceva conta quel quell'adrenalina ci staranno ci starà eccetera poi va bene a me però come quelli che mi dicono gigi ma non avevi chance ho capito ma se non provi hai già perso e a me piace giocarle le partite anche se sol che perdo mi piace giocarle non diranno non gioco perché tanto quello è più forte di me perché come diceva crepe che dice a tennis dovevi giocare con raccatta palle devi giocare con quello bravo e cosa succede se giochi con quello banamo che ti da 6 0 6 0 però impari io a tennis giocavo anche con quelli che erano più bravi di me che mi danno 6 2 6 2 però imparavo perché giocare con quello che tu servi e non arriva neanche alla rete con la risposta non impari niente giocando con quello bravo magari ti viene fuori anche qualche bel colpo impari a fare qualche voli bella impari a fare qualche passante certo magari provi a fare dieci passanti una volta lo passa e nuove volte ti fa la voler chiude su dall'altra parte ma intanto impari è uguale con le donne ci provi perdi dato come si dice di solito in amore già se finisci pari sei fortunato io sono sotto cassano si è fatto mille donne eccetera io ho preso mille due di picche e vabbè adell pronti i coglioni di provarci non di fare come quelli e dovevo tanto non ci sta cosa ne sai una figurati se quella lista con me io ho visto tante persone tanti miei amici e infatti l'altro mio amico facevamo l'agenzia matrimoniale perché vedevi che due si piacevano ma erano timidi non avevano mai il coraggio di andare a dirgli e allora cosa facevamo facevamo in modo di farli mettere assieme in qualche maniera quando uno gli piaceva una ragazza o che cosa ma non voleva sbilanciarsi troppo non andavi a fare il stile stempo delle mele o guarda che quello ti viene dietro o guarda che quella che ti viene dietro che poi magari questa o l'altro diceva no non mi interessa quella lì a vado a glielo tu davida dalla tipa di dia guarda che enrico non ti vuole e chi cazzo ti ha detto di andarglielo a dire perché tu sapevi che lei era no non avevamo un metodo abbastanza più elusivo o andavi lì gli sparavi qualche dove a caso mettendoci in mezzo anche quello di quello che gli moriva dietro ma senza dargli a dire esplicitamente guarda che tizio ti viene dietro oppure una ragazza che muore dietro un ragazzo dagli subito a dire a guarda che la francesca ti muore dietro no perché se no è uno sputtanamento o andavamo lì a fare ciao giovanna allora come ti trovi con la campania eccetera eccetera ti trovi bene magari una nuova ragazza che era insieme inserite in compagnia o che cosa ma così per curiosità tra c'è qualcuno che magari ti ha colpito particolarmente così tanto per senza niente di che noi sapevamo benissimo a chi magari andava dietro la giovanna per dire però facevi sempre finta di non saperlo e lei logicamente siccome magari eri diventato l'amicone perché poi io divento subito un amico delle donne ricorderò una sera eravamo al flambe poi ve lo racconto ve lo racconto dopo comunque lei naturalmente dice a mi piace mi piacerebbe però sai non so se io le piaccio vabbè non ti preoccupare non lo tengo per me però gli fa gli imbuttoni la battuta qualora lui dovesse fare qualche senza di di diet qualora lo faccio sapere così magari e adesso torniamo alla questione no eravamo una sera forse ve l'ho già raccontata erano giù eravamo giù al flambe io ero seduto a un tavolino con la compagnia dei giovani chiamiamoli così e poi c'era l'altra compagnia dei miei coetanei di chiamiamoli così anche se hanno qualche anno meno di me io ero con la compagnia dei trentenni 25 30 anni io ero un po di più perché parlo di ormai una decina di anni fa purtroppo perché l'ultimo se ne va ma io non bene rendo conto è quello il problema c'è questa ragazza nuova che si era seduta al tavolo con stata lì a parlare per un'ora un'ora e mezza quando i ragazzi sono fanno gigi noi andiamo perché essere si è fatta una certa io mi sono avvicinato all'altro tavolo mi fanno gigi meno male sei arrivato finalmente sempre a stare con i giovani a noi non ci cagli mai e qua e lascio giù no mi siedo c'è questa tipa qua siamo lì cinque dieci minuti perché anche noi poi alle due arrivava il proprietario ragazzi sono le due dovreste andare eccetera io sono stato lì dieci minuti non è che ho detto chissà che cosa questa ragazza qua tempo dieci minuti che ero lì mi sono presentato eccetera mi fa tu mi stai simpatico subito così dopo di anche dieci minuti saresti l'amico perfetto mi sono caduti i coglioni poi ci sono uscito con questa ragazza ho fatto anche il bagno al lago con lei sono stato a chiacchierare con lei a lungo la topolona dopo il bagnetto del lago sia anche tolta reggisena è rimasta pancia in giù con le tette non al vento perché era pancia in giù però si è tolta reggisena c'è tutta la scheda bella libera io ho fatto qualche battutina e tutto quanto però ho detto che era fidanzata con un coluro quindi ho lasciato perdere intanto ci ha avuto la faccia di tolla di invitarla uscirci eccetera poi ci sono anche uscito un'altra sera sempre via al flambe con lei un'altra amica io un altro amico niente di che però poi di faccia di tolla ci vuole ragazzi cioè voi io quando esco la sera vedo spesso quattro ragazze da sole i ragazzi al bancone o sennò seduti a un tavolino per i fatti loro e io mi domando allora i casi sono due o le ragazze che sono lì sedute si sa che sono fidanzate quelle sono la sera in cui hanno preso la serattina libera dai fidanzati perché magari i fidanzati erano vedere la partita e e allora vabbè giustamente non le vai a importunare ma se sono ragazze che sono single e voi siete single andare lì a chiederle ragazze vedo che siete da sole eccetera vi va di unirci ci possiamo sedere anche noi che così ci conosciamo chiacchieriamo eccetera che eravamo lì soli soletti così udiamo le nostre solitudini gli fai una battuta stanno lì a bere come a guardare c'è di quando era estate ne conoscevamo tutte poi le altre se le facevano io prendevo i due di picche però io ero quello della compagnia che aveva le idee per conoscerle ragazze ricorderò sempre un'estate c'erano delle ragazze avevano la tenda a limitare della spiaggia perché praticamente c'era il camping gardenia e c'erano le tende no c'era chi aveva la tenda che aveva il bungalow che che aveva la roulotte e quant'altro era talmente pieno che bar e avevano messo addirittura all'ingresso c'era la rete di recensione dell'ingresso di fianco c'era questa tenda con queste ragazze volevamo conoscerle volevamo conoscerle avevano capito che anche loro volevano cosa ho detto ragazze ragazzi mettiamo gli un biglietto in inglese vediamoci stasera al bt che era la discoteca dove andavamo quando c'era vediamoci stasera al bt i ragazzi della spiaggia li abbiamo conosciute così alla sera sono arrivati al bt io ero lì a lavorare perché facevo il barman tra virgolette sono arrivata e mi hanno visto vi hanno chiesto gigi dov'è tizio dove cagliano diretto su di giro l'inglese o bio inglese maccheronico ne hanno conosciuto e poi ognuno qualche mio amico se neanche fatte dati loro così adesso adesso tutti costi smartphone in mano a guardare a ridere guarda il video di questo guarda il video di quella come viene la tristezza ragazzi dove viene francamente la tristezza comunque questi sono i nostri tempi di buonismo di tristezza di battute che non si possono più fare oddio cosa hai detto del due più due uguale cinque se non se non è se per te non è cinque sei un fascista ma due per due più due due più due fa quattro fascista è tu ignorante perché due più due fa quattro ti devo dire perché ormai è così purtroppo il buon senso anche davanti a una cosa mi sembra di vedere la fiaba dei vestiti dell'imperatore la sapete la fiaba dei vestiti dell'imperatore no c'erano questi due pseudo sarti che dicevano di confezionare un vestito e vestiti che chi non li vedeva era scemo non so se al termine era scemo era cretino era ignorante era era un'offesa e loro cosa facevano giocavano su sta cosa qua loro non facevano nessun vestito la gente per evitare di prendersi dello scemo diceva che c'era quel vestito esisteva quel vestito che bello quel vestito loro logicamente lo esaltavano dicevano guardi questo è un broccato fatto coi fili di ragno tutto dorato eccetera che bello che invece non c'era una beata giovanna quando il re passava col vestito tutti che bello il vestito del re che bello il vestito del re ragazzino bambino perché la voce della dell'innocenza della verità dice ma il re è nudo sta zitto ignorante cretino vedi sei un cretino ecco noi siamo così c'è il vestito dell'imperatore se tu non la pensi così e vedi dici che il re è nudo ed è effettivamente il re è nudo e adesso anziché darti del cretino ti danno del fascista o del nazista o dello xenofobo o del cos'è che come quel termine omofobico no semplicemente è così solo che piuttosto che dire che è così perché vi fa comodo dite un'altra cosa e concludo con un video che ho visto di cinque anni fa c'era stata appena da poco l'omicidio della della pamela mastro pietro se non sbaglio o della desire o della pamela una delle due quella più piccola quella di 16 anni e dj francesco ha detto chiaramente fa io di questo buonismo mi sono rotto francamente mi sono rotto non ha detto il termine fa non è possibile che io quando ero un ragazzino potevo andare a 5 6 7 8 anni da solo al parco in giro per la città senza nessun problema e adesso io le mie figlie che hanno sei anni le tengo a casa perché ho paura poi diceva giustamente non è possibile che uno che fa dei delitti come quello di desire o di la pamela si prenda nove anni non è possibile basta con questo buonismo perché questo buonismo ha rotto veramente i testi ed erano dichiarazioni che ha fatto cinque anni fa e anche lì quando lui fece quelle dichiarazioni di si prese del fascista si prese gli dissero tu non puoi dire determinate cose eccetera 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 come dice qualcuno no non lo dico perché se non vado vado sul volgare quindi però uno l'ha detto con la storia del fascismo puntini puntini puntine ce lo stanno mettendo puntini 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 poi so che magari no anche qua potrei fare un'altra battuta ma la evito perché francamente a me è proprio delle t belle 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 largite le battute mi vengono spontanee perché le regalate questo buonismo quando altra cosa poi concludo sapete che io non amo parlare di politica no però quando spuntarono i 5 stelle c'erano molti miei amici anche della mia area politica che siccome si erano rotti giustamente i testi di questi politici che poi alla fine della fiera fanno le stesse cose come l'ho detto anche luca e paolo hanno ragione loro proprio sono andati giù pesante c'è un video che appare dicono noi votiamo delle merde scegli da una parte o dall'altra sono tutte merde solo che magari una è meno merda dell'altra ma sono tutte merde quindi per cui quando sono apparsi i 5 stelle uno magari persone comuni eccetera io ho detto ragazzi state attenti prima di votarli voglio vedere cosa fanno non è ma gigi di qua di dudani ho avuto ragione io purtroppo ho avuto ragione io e mi insultavano adesso sono spariti quelli che mi insultavano che mi dicevano gigi no perché qua perché bisogna cambiare questo è il cambiamento c'è ci sono tolti ma non tanto ci sono tolti dal proprio quando mi vedono ai presenti abbassa lo sguardo non hanno bisogno abbassano sguardo subito perché sanno che avevo ragione io purtroppo e mi spiace perché anch'io li ho presi con simpatia eccetera volevo vedere sai e io ho detto guardate che questi sono e alla fine si sono rivelati quello che erano quelli di quel partito che io a borro c'è la battuta di quello con la barba però non la faccio perché sennò poi non vorrei che youtube rompa i testi ma c'è un signore con la barba bello barbettone lungo che ha fatto una battuta politica bella pesante su un determinato partito politico e io guardate quando l'ha fatta mi sono ribaltato dal ridere perché ha perfettamente ragione anzi ne ha fatte due di battuta però non ve le faccio perché ve l'ho detto a me non piace parlare di politica sul canale la politica dovrebbe essere una cosa seria e fatta da persone serie dovrebbe purtroppo le persone serie come per stare agli antipodi in berlinguer da una parte gli almirante dall'altra non ci sono più berlinguer e almirante erano due persone che erano agli antipodi che però quando si incontravano come diceva heller si scambiavano le idee e quindi uno tornava a casa con un'idea in più erano due persone che potevano trovare tranquillamente dei compromessi pur essendo agli antipodi perché perché erano persone con buon senso e intelligenti poi uno poteva essere d'accordo sulle idee di uno dell'altro però in ogni caso andavi a votare una persona seria che faceva politica adesso non si fa più politica ragazzi non si fa più politica sia perché dobbiamo sottostare a determinate cose noi abbiamo una cambiale perenne con gli stati uniti avete voluto liberarvi da mussolini e tutto quanto adesso vi dovete sopportare gli stati uniti io di tanto faccio la battuta una volta eravamo alleati con i tedeschi adesso siamo schiavi dei tedeschi schiavi degli americani schiavi dei francesi conviene però è non siamo più fascisti e ne fai lo schiavo fai lo schiavo sei schiavo quello che dicono gli americani devi fare se dici non ho capito che hai detto ci mettono un attimo a conquistarci ci sono più base americane militare americane in italia che quasi che degli stati uniti ci mettono un nanosecondo a ribaltarci come dei calzini quindi purtroppo è così siamo passati dalla padella della braccia solo che nella padella c'era magari delle belle bistecchine fiorentine adesso c'è solo braccia e la braccia non è buona da mangiare può scaldare il cibo ma se non hai cibo è una battutaccia ragazzi ma come diceva il buon Gaber in destra o sinistra siamo passati da quella cosa che teoricamente era brutta 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 a una democrazia che a fargli complimenti ci vuole fantasia anzi è praticamente impossibile comunque ripeto non mi va di parlarne cioè la politica lasciamola fuori dalla dalla questione voglio parlare di altro ma come al solito ogni tanto mi scappa mi scappa non la pipì l'ho appena fatta non l'ho fatta prima del video quindi sono a posto mi scappa di metterci dentro l'argomento anche se francamente vorrei evitarlo sempre il più possibile detto questo mi sono dilugato troppo chiedo video fatemi sapere le vostre opinioni fatemi sapere le vostre idee fatemi sapere fatemi sapere punto non c'è bisogno di dire altro mi è piaciuto il dibattito sulla mia pizza che poi dopo è andata anche oltre mi è piaciuto il dibattito sulla battutina del personaggio che va bene qualcuno mi ha scritto Gigi lo bollano ragazzi io vado avanti non è che mi faccio problemi se non mi scrive ai 10 visualizzazioni dei venti dei cento dei cinquecento e solo mille follower o cose simili perché io i video li faccio per il piacere di farli non perché punto alla notorietà punto a diventare chissà qualche cosa punto a diventare ricco con youtube se capita bene se non capita non muoio mica le cose glielo dicevo l'altro giorno gli ho fatto la battuta a Heller della della palestra no sto vedendo i vecchi video di maggio di quest'anno perché ero in arretrato gli ho detto piano piano li recupero prima che arriviamo a metà a metà marzo che poi dopo farò fatica ancora a vederli perché dal lavoro di video di youtube e dormire non è che mi resta molto tempo per vedere i video e gli ho detto si diceva devo andare in palestra devo andare in palestra devo andare in palestra io gli ho detto Heller il devi non deve esistere soprattutto su cose che esulano dal lavoro perché se uno dice devo lavorare è un dovere non ci sono diritti se non ci sono doveri diceva il buon Camillo Benson di Cavour no Mazzini lo diceva e resto dell'idea che è giusto tu fai un dovere hai un diritto fai un altro dovere hai un altro diritto tu non fai un cazzo scusate il francesismo non hai diritti perché devi avere il diritto diritto di cosa non c'è nessun diritto per diritto di vivere basta e ringrazia che vivi poi dopo fai una cosa e un altro i miei genitori vi hanno abituato così vai bene a scuola regali vai male a scuola punizioni molto bene nulla di più nulla di meno poi come diceva vabbè lasciamo perdere mi sono perso ecco lo sapevo mi sono perso niente mi sono perso avevo non mi ricordo più cosa stavo dicendo perché mi sono perso un attimo nel dovere diritti e tutto quanto quindi lo chiudiamo qua dai questo video perché se no poi diventa troppo lungo mi dite che sono prolisso eccetera 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 ragazzoni mi spiace non mi ricordo più cosa stavo dicendo perché mi sono perso un attimo quindi vi saluto vi ringrazio e naturalmente ci vediamo alla prossima stasera vi dirò saremo all'officina meccanica teoricamente a colico quindi pizza e poi probabilmente prenderò il loro piatto speciale perché lì c'è il piattone speciale che non mangio ragazzi pensate dagli anni 90 che non vado più all'officina meccanica e lì noi ci andavamo a fine serata durante la settimana alle due raga salto all'officina meccanica poi ai tempi non c'era il problema del dell'etilotest eccetera ti fermava di carabinieri come ho detto all'inizio ha bevuto stia attento e vada piano adesso ha bevuto sentiamo odore di alcol venga fuori che facciamo l'etilotest ciao patente quindi uno cosa fa io stasera c'ho l'autista quindi il mio amico non beve beve mai dal massimo si concede una piccola una birra piccola che nell'ambito di un pasto la sorbi subito io vi bevo la media e poi magari vi faccio anche un paio di drinchini di cotterini adesso ho provato anche il cotto e l'argentino il cuba argentino ve lo consiglio è buonissimo ci sono due cose che vi consiglio il cuba argentino che è fatto col ferne branca e la coca cola quindi anche meno meno forte e l'altro che a me fa libidine ruba e chinotto e un altro che mi fa ancora più libidine amaretto di saron e coca cola grande libidine quindi vedete voi se vi piacciono 100 se naturalmente se lo dovete guidare se dovete guidare io vado a panacea l'emonsoda anzi rider perché sarebbe più giusto dire rider quindi l'emonsoda e birra quindi birra anacquata problemi non ce ne sono è il livello di un aperitivino analcolico alla fine della fiera tra l'altro mangio quindi e alla sera mangio lo vedete dai miei video quindi problemi non ce ne sono perché ripeto non è difficile stare alle regole i miei mi hanno abituato a stare a delle regole non vedo perché quando mi dicono Gigi ma tu sei tu guardate che non è che sono San Francesco o San Gigi da Milano ho i miei impregi i miei difetti anche io posso sbagliare e quando sbaglio chiedo scusa non ho mai avuto problemi a chiedere scusa quando sbagliavo addirittura anche in ginocchio soprattutto con le donne perché se sbaglio anche se magari è un errore in buona fede è un errore che il 99% delle ragazze non ti direbbe mai hai sbagliato anzi grazie però trovi quella che magari si offende mi è capitato ve l'ho raccontato adesso siamo molto amici però allora me lo fece pesare e anche parecchio poi mi girarono i coglioni come al solito perché a me la gente che mi evita o che cosa mi fa girare le palle l'ho presa e gli ho detto spiegami cosa c'è cosa tu ho fatto eh così 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 scusa è un regalo non vedo dove è il problema eh no non puoi e poi me lo spiegò anche la mia avvocatessa che avevo per questioni burocratiche che mi disse guarda che ha ragione lei volendo ti potrebbe anche denunciare chiederti anche un risarcimento d'anni ma se gli ho fatto un regalo eh lo so ma non si può tutto perché gli avevo fatto delle tazze personalizzate con le sue foto cioè era suo non è che ho messo fuori i cartelli con la sua foto questa è una puntini puntini perché se avessi tappezzato il paese con le sue foto col suo numero di cellulare e la scritta questa è una c'è perfettamente ragione a denunciarmi ma ti ho fatto un regalo che è tuo non è che mi tengo io la tazza con la tua foto ti ho regalato due tazze con la tua foto personalizzata lei si è offesa poi adesso diamo un amore d'accordo ogni volta che mi vede mi fa i sorrisoni siamo amici anche perché caratterialmente culturalmente eccetera siamo agli antipodi lei mi piace mi piace esteriormente mi piace anche per come si pone in compagnia perché è una ragazza allegra non è una musola però non c'entriamo nulla però ripeto boh boh chiudiamo qua con questo boh del fatto che mi dicano spesso Gigi ma tu sei tu non è che sono un santo non è difficile stare alle regole mi hanno abituato così sono stato educato così dovrebbero essere educati tutti così ma il braio è che non ci si riesce Crepè infatti continua a dirlo e ha ragione cosa faccio? cioè il ragazzo non vuole andare a scuola non fa niente niente tv niente smartphone niente computer eh non posso eh? non ho capito che hai detto? io ricorderò sempre era periodo delle medie io alle medie non andavo bene non mi devo vergognare erano materie che per me erano arabo disegno per me è arabo io non so disegnare come cantava un cantante io non so disegnare a scuola ero il peggiore c'è una canzone di tanti anni fa bellissima si chiama se non erro amore mio e lui inizia con io non so disegnare a scuola mi sembra sia di Enzo male passo che nessuno conosce poi l'ha ripresa anche qualcun altro e dice io non so disegnare a scuola ero il peggiore però vorrei riuscire a fare un disegno al nostro amore e poi dice poi strappo tutto e sai perché è solo un falso che ho di te amore mio ho ancora ho ancora il vizio di chiamarti amore mio eccetera eccetera vabbè lasciamo perdere io avevo era l'80-81 più o meno quindi avevo appeso alla mia porta il poster dell'inter campione d'Italia del 79-80 c'avevo il mio pallone messo da calcio mio padre si incazzò a bestia come si suol dire strappò tutto mi strappò il poster mi bucò il pallone fece la scena madre le sverle le opprendevo quando avevo pochi anni dopo devo dire che non mi hanno quasi mai messo le mani addosso però c'erano le punizioni che allora non avevamo le smartphone niente e gli dicevano Gigi è dato male dite non esci stai a casa studi poi magari mi lasciavano uscire lo stesso e tutto quanto e alla fine della fiera di Riffo di Raffa le medie le ho superate e mi hanno mi sono anche state utili perché comunque probabilmente è meglio essere tra gli ultimi in una classe di campioni cioè giocare in serie A e lottare per non retrocedere che non essere in una classe di serie B in cui eccelli ma è una classe di serie B in cui sono infatti io in primo anno di superiori mi sono trovato in classe uno o due ragazzi che erano delle sezioni quelle di serie B chiamiamole così io dopo il primo anno di ragioneria presi stenografia a settembre prendi la stenografia a settembre vabbè sorvogliamo però su delle altre materie avevo la media dell'otto no ma del sette sì tra l'altro avevo otto in dattilo la cosa divertente avevo quattro in stenografia e otto in dattilografia ma non perché sapessi battere bene a macchina ma sapevo fare bene le lettere commerciali forse ve l'ho già raccontato perché io sono veloce a fare tu 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 a due dita e sullo smartphone non riesco perché ho le le madone grosse e quindi sono costretto a fare così e già faccio fatica perché se facessi così sì sto giocando a Codicross no? devo inserire le parole la risposta e ogni tanto mi dico ma che cazzo ho scritto? devo scrivere magari Abbaia mi è venuto KXZ perché prendevo la lettera sbagliata quindi sono costretto a stare attento a fare perché non ho il tablet ho uno smartphone piccolino quindi vi dicevo mi è andata bene di essere infatti ho preso stenografia gli altri due bocciati tutti e due o uno tutti e due bocciati quindi con i miei professori ai tempi che quando i miei gli dissero vogliamo iscrivere Luigi all'istituto San Celso istituto private gli dicevano ma siete matte buttate via i soldi ma mandatelo a zappare che è meglio eccetera e io ho dimostrato che invece non era colpa mia era colpa delle materie a cui non ero portato perché in ragioneria sono sempre andato benito poiché non mi piace fare 7.30 7.40 è un altro discorso ma gli registri prima nota per me sono uno spasso quindi dipende i conti anche adesso riesco a farli a mente spesso non ho bisogno la calcolatrice anzi la uso raramente la calcolatrice per fare cose più complesse anche perché ho gli ottimi insegnamenti del mio maestro dell'elementare che ci spiegava qualche trucchetto per fare i conti a mente un po' più velocemente anche perché ai nostri tempi non è che avevamo chissà che cosa sì la calcolatrice c'era c'è sempre stata esiste da tanti anni però lui voleva sempre che facessimo le cose senza calcolatrice a mano le divisioni le facevamo sui fogli voleva vedere lo svolgimento della divisione le moltiplicazioni le facevamo sui fogli non con la calcolatrice adesso facciamo tutto con la calcolatrice ragazzoli vi saluto 51 minuti di video mi sparate spero di no e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao